Marco. Marco Bocci è messo sotto scacco dal poliziotto corrotto a servizio dei Corona, ed è costretto ad affrontarlo insieme a Barbara, Diane Fleury per evitare che questi riveli la sua vera identità a Bruno, Peppino Mazzotta. Le conseguenze di questo gesto saranno gravissime fino a rischiare che Marco venga scoperto da Bruno Corona, lo zio Vincenzo. Per Luigi Misasi infatti nutre non poche perplessità sulla vera identità di solo ed è deciso ad aprire gli occhi anche al nipote Bruno. Nel frattempo la vicinanza di Agatha? Carlotta Antonelli si fa sempre più insistente e il clan Corona comincia a vedere di buon occhio la vicinanza tra i due. Grazie a tutti.